È iniziato il restauro dei simulacri della processione del Venerdì Santo da parte dell'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila grazie a una convenzione con l'Associazione Cavalieri del Venerdì Santo e il Convento dei Frati Minori di San Bernardino. A 71 anni dalla realizzazione delle opere questi lavori, realizzati negli anni 50 del 900 da Remo Brindisi e da altri artisti, vengono trasferiti nel laboratorio aquilani per un primo intervento importante di restauro. La Grande Croce è la prima opera sottoposta al restauro. L'intervento è oggetto di tesi di uno studente, Daniele Muggia, seguito dalla restauratrice, la professoressa Grazia De Cesare. L'intervento è molto importante ed è stato fortemente evoluto dal presidente dell'Accademia Rinaldo Tordera. Il sisma del 2009, i danni causati dal tempo, per questo era quanto mai necessario il restauro. L'impegno dell'Accademia è terminarlo per la processione del prossimo 29 marzo. Si tratta di una collaborazione molto importante che pone ancora una volta l'Accademia delle Belle Arti al servizio della città. Quest'operazione ci sta molto a cuore come tutto quello che riguarda il territorio, in quanto non è la prima volta naturalmente che ci siamo confrontati con questo importante argomento, soprattutto relativo al culto e all'utilizzo di questi elementi. Per esempio, cito la Madonna di Onna, che aveva le stesse problematiche delle processioni, non sono problematiche, ma comunque gli stessi utilizzi a fine del culto, chiaramente con modalità differenti, lì è stata fatta un'operazione totalmente differente. In questo caso, sì, siamo inseriti nel contesto proprio urbano e ci teniamo molto, perché tra l'altro questa processione realizzata appunto dal maestro Remo Brindisi con le collaborazioni aquilane, diciamo, è un simbolo per la città tutta, insomma, perché comunque è una processione che sfila ogni anno, per cui a differenza delle opere che stanno in un museo comodamente custodite, gelosamente custodite, queste sono opere molto vissute dai fedeli, quindi toccate, passano sotto le nevi, le piogge che conosciamo, insomma, aquilane. Pertanto hanno avuto questi pezzi scultori, insomma, importanti problemi, che noi riusciremo a risanare, insomma. Sono previste differenti, dipende anche dalle tipologie, cioè da come le troviamo. Questo qui, come dicevo, è un work in progress. È stato stabilito, insomma, che intanto riconsegneremo questo lavoro perché la processione è vicinissima.